Come dice chiaramente il nome, il corso di fisica applicata ai beni culturali vuole proporre agli studenti del corso di restauro di strumenti musicali e scientifici alcuni approfondimenti in merito alle metodologie fisiche e ai principi che ne stanno alla base nello studio di strumenti musicali storici e di pregio e della strumentazione scientifica volta a comprendere le possibilità nel percorso di restauro offerte dalle metodologie sopra menzionate. A partire da alcuni concetti di base con alcuni richiami teorici senza approfondimenti eccessivamente formali si cercherà di trasmettere allo studente le nozioni di base e le possibili applicazioni di differenti metodologie fisiche dedicate al restauro di strumenti scientifici e musicali. Il corso è disponibile sulla piattaforma Chiro al link in descrizione. Grazie Grazie Grazie